Per questa ricetta devo ringraziare una mia cara amica. È una pasta che ho assaggiato da lei e da quel momento non l'ho più dimenticata. Oggi sono felice di proporla anche a voi. È la pasta alla francescana, molto golosa, profumatissima e perfetta in tante occasioni. Il punto di partenza è la preparazione di un comunissimo ragù. Quindi per prima cosa mi serve realizzare un trito di odori. Per accorciare i tempi utilizzo un tritatutto. All'interno metto una piccola cipolla, una carota, uno spicchio di aglio e un pezzetto di sedano. Lavoro con le lame pochi secondi per tritare tutto grossolanamente. E adesso in pentola un fondo generoso di olio di oliva. Lo riscaldo e aggiungo il trito. Lascio soffriggere per qualche minuto a fiamma medio-bassa e continuo aggiungendo la carne macinata. Potete scegliere solo bovino oppure una carne mista. La sminuzzo con il cucchiaio ed è importante lasciarla rosolare e sigillare in maniera uniforme. Solo a questo punto sfumo con il vino rosso. E mentre aspetto che l'alcol evapori, metto anche un po' di pepe nero macinato. Ora che il sentore del vino non c'è più, posso aggiungere la passata di pomodoro. Non può mancare anche un po' di acqua con cui ho sciacquato la bottiglia e quindi in questo caso la ciotola. Aggiusto di sale, metto una foglia di alloro e inizio la cottura del mio ragù in un fuoco più piccolo, quindi con una fiamma molto dolce e il coperchio. Lo lascerò cuocere per circa un'oretta o poco più. È trascorso il tempo necessario, questo è l'aspetto del ragù. Come vedete si è un po' ritirato e la consistenza è diventata quasi cremosa e vellutata. L'olio è risalito in superficie, ci siamo quasi e quindi posso occuparmi dei funghi. Ho acquistato degli champignon già affettati per risparmiarmi un po' di lavoro. Gli do una trifolata veloce in padella, quindi un filo d'olio, uno spicchio di aglio e giù i funghi. Li lascio appassire per qualche minuto di modo che possano asciugare l'acqua di vegetazione. Poi aggiusto di sale e pepe e cuocio ancora un paio di minuti. È il momento di unire i funghi al ragù, evitando ovviamente eventuale acqua prodotta. Insieme all'oro metto anche il prosciutto cotto, tagliato così a dadini. Quindi continuo la cottura per ancora un quarto d'ora, che sarà il tempo necessario anche per la pasta che ho scelto, oggi farfalle. Al ragù manca ancora un ultimo ingrediente. Quindi sul finire della cottura della pasta aggiungo panna da cucina e qualche foglia di basilico per dare più profumo. Adesso c'è proprio tutto, scolata la pasta la condisco con abbondante ragù, funghi e prosciutto. Ma manca un ultimo tocco, quindi nel piatto una spolverata di formaggio grattugiato. E adesso posso gustare la pasta alla francescana, che sono sicura piacerà anche a voi se la provate. Fatemi sapere se la conoscevate già e come la chiamate. Io vi aspetto presto con un nuovo video e vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Valentina!